Beh ragazzi qui Dindo e oggi andiamo a farti con State of Blaine's Grocery Quindi Eeeh Ah ah coglioni Ok vi ho ucciso la moglie scusate Si la moglie di tutti sono Polingami Dovrebbe essere così BAM sono arrivato Wow Fantastica Ah sto parlando io adesso Eh perchè non regalarmi un'auto Grazie Questo qua non mi sembra però molto affidabile Mi regala le auto per una sorta di captatio benevolenza E questa vuole rendermi amico per poi mettermelo nel culo appena la compro la saponetta E' la serie che fa casino Ma c'è altro che lo voglio fare Ma certo Ma non ho risposto comunque Ho risposto nella vita reale ma non nel gioco Quindi tu non è molto Si andiamo Si vieni Si Go 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 minchia che bolide Oddio Ora vedrei come guido io Caro mio nuovo amico Tan 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 Allora Eh aha Questa è la mia giusta manovra Normale Ok Dunque Eh questo è Se vedi il pericolo davanti a te Tranquillo Ecco così che guido Eh Se ti vedi la morte in faccia Tranquillo È normale caro Raimondo Cosa stai dicendo Guarda Caro Raimondo Qui è dove mi esplosa la macchina Nella scorsa parte Allora Devo andare di qua No 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 Un buco un buco un buco Un buco un buco Ti si è rotta una finestra Ti mostro una cosa dove Vabbè oh senti io vado qui adesso Fa un culo Campo di cose bianche No Ah si Ok Ah non ci gode Lui si Lui si sballa In vestibili Ma chi è questo qua Ma che cazzo di Sì di Psicopatico Fatto Sì ma non si staccano Stiamo andando a 2000 all'ora Olè Andiamo di qua adesso Ah ma proprio questa missione Si basa su questo Fantastico BAM Perché non si staccano però No dai Ok ho tolto il segnalibro Perché qua tanto Direi che siamo arrivati Wow Com'è Voilà Cioè Che guidatore di body di sonno Pilota Sì questa ragazzona Che brutto che sei Anche io comunque Che cazzo sto facendo Mi ha messo tipo in polio Non ha parlato Allora Ok Allora prendiamo tutto Sì sono sicuro Che ci rivedremo Bel body Wow Minchia sta manovra Che non è che non è neanche Fatta apposta Come ve la vedete Allora devo Beh c'è un ciccione Spero di non impeccarlo Perché mi fanno un bordello Di danno Perché non muoiono Anche se li investi Mille volte Non muoiono Ok vai 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 No Grande Passa sopra la pedra Si fa un po' di slalom Non voluto Ok Oh minchia il giudice La parla Che cazzo vuole Giudice Giudice di merda Cosa vuoi Io ti vado Mi fai andare A fare dei percorsi assuri Va bene come vuoi Si Ma che cazzo dice Va bene Ok Non ho detto un cazzo Qui c'è un alleato in pericolo Eccomi qui Ad aiutare gli zombie Stanno i superstiti Sono qui Sono qui Sono qui Ah porca merda Scherzavo Sono qui Tranquillo sono io Non nemmeno zombie Ok sono qui Sì ti aiuto Ok fatto Ole Bam Fatto Eh che grande alleato che sono Siamo dei grandi Siamo Fanculo Ok adesso Via verso nuove avventure Scorta superstite Superstite No Minchia sei già qua Qui 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 che Velo veloce questo Bolide Dove Ah ma a casa nostra Allora ci vado senza guardare la mappa Vediamo eh E Giuro che Non lo sto guardando Allora Di qua era Perché mi ricordo che Quella Che casa lì me la ricordo Ecco da questa Minchia ragazzi Sì Smita di parlare E ne entra in casa Così però Ehi Così Ehi ma che cazzo Te non sei ammesso qua Va fanculo Non no Io ti sbarro l'entrata No 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 Fermate nel tempo Puttana eva Abbiamo un nuovo alleato Fanculo Allora Devo prendere un po' di colpi Forse No Ok niente Fanculo Me ne lavo le mani di voi E quindi Vieni qui Bam Dove andiamo Dove andiamo Gioco dimmi dove andare Radio 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 Parlami 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 Levati Radio C'è come va questa Vai radio Vai radio Vai radio Vai radio Vai radio Vai radio Dai radio cazzo Però Parlate un po' Da radio Che sennò Non ho missioni Stavolta Tentano di fare Il pazzerello Allora Un po' di missioni Oh Wow Che cosa Accade qua Come mai Questa qui Random Va bene Non c'è niente da fare Cos'è questo Oh andiamo a prendere Sti cozzi di oggetti Personali Di sta puttana Fanculo Annabelle Vercesi Andiamo a prendere Gli oggetti Della Vercesi Andiamo La Vercesi Allora Dove si entra Qua nel campo Non mi sei porto Nel campo di Ah Ok Questa mi suona Come una missione Quindi Quindi Cosa mi è servita Questa tua Questa tua locuzione Verbale Non me ne è giunto niente Ancora Mi stanno anche attaccando Vabbè Vado a rubare Gli oggetti Di Annabelle Frutteto Che non mi fa vedere I tronchi degli albi Merda Muoio Uh C'è passato Guarda I campi elisi Che bello sto posto Ok Quello lì Lo voglio prendere No scherzo Allora Siamo arrivati Minchia Siamo già arrivati Annabelle Vercesi I tuoi averi Attività Cosa Guarda Devo essere molto veloce Sbam Pengilo Via 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 Prima che salgano In macchina Proprio accanto Nel corso Passeggeri Ok Fatto Ora abbiamo anche Una missione Una missione È vera Sì Ok Saprofago What? Cosa? Saprofago? Saprofago Non so cosa voglio dire Scusatemi Se so meglio Il cirillico Persona scomparsa Dove? Uh Ora c'è pieno di missioni Uh Uh Cioè Prima mi fate andare A rubare gli oggetti Di Annabelle Vercesi E poi Perché non Perché non c'è Nessuna missione Ora abbiamo C'è mille Contemporaneamente Che cazzo Ma che cazzo No ti prego Non può essere chiuso Ah Ok No Merda Merda Dentro il frutteto No Non vedo un cazzo Non vedo un cazzo Uh Ah Vaffanculo Mi sono preso uno zombie Levati che non vedo niente Ok Devo camminare Si cammino qua sul bordo Si si vede La strada Olè Olè Oh Ma no Perché l'ho fatto Oh Minchia la fisica In sto gioco Però c'è Proprio random Ok Tanto qua ce n'è un altro veicolo Va bene Fa un culo Questo qui è tipo Chissone Ah minchia ma c'è uno zombie Arrivo Intervento non più Ridicolo della storia Com'è Parlami Che devo fare Che devo fare Eh si Ti porto a casa Dai vieni 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 Come so Alveglia il perimetro Sto cazzo Ma sto cazzo Che gli sorveglio Il pene Sto qui No Io voglio portarlo A casa Stop Oh ma che cazzo Stiamo facendo Cosa fa Sì Tanto lui gioca con le formiche Io devo stare qui A proteggere Degli zombie Mi sembra giusto Dai Con i miei capelli sexy Eccoli lì Ti puoi svegliare Sì Minchia È arrivato in fretta Ok ci penso io Ci penso io Ci penso io questo Olè Guarda che grandi Che siamo Gianni E Zezzo Beccato Oh Finiscilo Finisco io Vai a raccogliere Le cose Perché se raccolta Intanto continua Anche se non stiamo Raccogliendo nulla La raccolta Intanto continua Intanto mangio Va E Sì Vabbè Dai Oh Oh merda Oh dai Minchia Ma comunque Ce la farebbe benissimo Da sola Cioè Vabbè Chi è In volo Oh che cazzo è successo La mia macchina esplosa Che non so Ci penso io Stamossa la più potente Cosa accade là Chi cazzo è questo Oddio è pazza C'è questa gente che è pazza È pazza Ok no Ne ho già uccisi due Oh alè Stra facile Straparli Straparli Wilson Oh è morto Oh no Ci penso io Ci penso io Che posso fare sta mossa No 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 Fanculo Stai zitto Te anche Anche se non stavi parlando Te anche Lui può andare avanti All'infinito A fare sta mossa A lui A lui vi piace Ce la fai a finirla Quella lì O devo arrivare io Ci penso io Puoi intanto raccogliere le cose Te Cioè In teoria Insieme una coppia Uno fa una cosa E l'altro ne fa un'altra No So damn tired È tua sorella Minchia Arriva anche la lorda Troppo Minchia Smettete Dovrei far casino Voi qui Va a far culo Anche a te Puoi finire la raccolta No Quanto pare no Ci penso io a questa Sbam L'attacco più potente Del mondo Dai Finiamo un po' Sta raccolta Che io mi guardo Le scarpe Vai Oh che belle scarpe Sì Guarda quella lorda Quasi Quasi poteva tirare No no scherzo Tranquillo Però muoviti Ah la raccolta Sta avvenendo In questo modo Ok Vaffanculo Perché non mi fa più L'attacco speciale Uffa No Non me lo fa più Andiamo Chi è che rompe il cazzo Adesso Che sta finendo tutto Vaffanculo Finiscilo Anzi spingilo Picchialo E fai l'attacco speciale Bravo Andiamocene Facciamolo cosa Adesso Perché lo Perché lo devo portare qua Ah devo andare A consegnare Ovviamente Ovviamente Levati Ma come fai In maniera attaccata A un furgone Ma che cazzo Di zombie sono GM Vai 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 No dai Un valico Un varco Un varco Merda Siamo fottuto Eccola un varco Uh siamo al trattore Anche se non ha il pezzo Che lo traina Ma c'è solamente Il coso che viene Trascinato Guarda come corrono sti due Vai 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 c'è ci sono zombie che ci sballano per i campi a volte Corrono ovunque come dei pazzi come se non ci fossero domani Allora Oh siamo arrivati E' là il posto Ok Ce la facciamo passare No un lago Un lago Un lago Un lago Oh Minchia Minchia Ok Vai via di qui Voilà Andiamoci nel là Andiamoci nel là E andiamoci nel là La 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 Olè Abbiamo Facciamo sta Consegna stop Ti prego veloce Dai qui la consegna puttane Te Consegna 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 Mi soldi Tu anche Oh abbiamo fatto la missione del saprofago Queste si che me le prendo tutte Vi lascio quelle calibro Ah mi piace Sono mille Cariche calibro 45 Va bene Fanculo Oh oh cos'è 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 Cosa c'è Perché c'è questo simbolino per terra Va fanculo Non voglio il vostro pavimento Comunque stop qua Ci vediamo nella prossima parte Lasciate mi piace un commento Di mettere di piacere sullo campionato Bella ragazzi Ciao